TENETEVI PRONTI! Noi apriamo la strada e facciamo un'azione diversiva! Vi copriremo dal secondo livello e attaccheremo quegli str... ...i nemici dall'alto. Mi piace. Così saranno più al sicuro. Va bene, ragazzi. Colpiteli con tutto ciò che avete. Vi siete mai chiesti di che pasta siete fatti? Oggi lo scoprirete. Studenti dell'Accademia Grissom, la struttura è sigillata. I soldati dell'Alleanza non possono salvarvi. Al massimo vi faranno uccidere tutti. Arrendetevi e non vi sarà fatto alcun male. Stronzate. Accidenti! Riescono a contattare tutti. Studenti, mettete i factotum in modalità privata, così non potranno rintracciarvi. E se... se non stessero mentendo? Ho visto coi miei occhi che te ne fanno le promesse di Cerberus. Cosa? Vedi le cicatrici, Rodriguez? Forza, guarda bene. Cerberus me le ha fatte quando avevo la metà dei tuoi anni. Arrenditi e finirai nel tritacarne. Noi stiamo cercando di salvarvi il culo. Sì, ho capito. Andiamo. 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 ū Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.